Cari ragazzi, cari giovani, genitori, insegnanti e personale della scuola, siamo agli inizi di un nuovo anno scolastico, segnato da una situazione senza precedenti, che richiede la sperimentazione di modalità inedite per garantire l'attività didattica quotidiana. Questo tempo di emergenza sanitaria ci ha fatto meglio comprendere il ruolo della scuola quale luogo in cui, insieme all'apprendimento, si coltivano i rapporti umani, l'amicizia, la solidarietà. Non sarà sicuramente un anno semplice e privo di ostacoli, ma proprio per questo va vissuto con serenità nel rispetto delle regole. Nei mesi passati tutti abbiamo percepito l'importanza del ritrovarsi, dello stare insieme, quale valore indispensabile per lo sviluppo armonico della persona e della società. Fatene tesoro. Ricercate, vi chiedo, particolarmente questa dimensione fondamentale per poter crescere in conoscenza e libertà. Vi affido ai santi patroni del mondo della scuola, Tommaso d'Aquino, Giuseppe da Copertino, Giovanni Posco, invocando su ciascuno, per intercessione della Santa Famiglia di Nazareth, la benedizione del Signore. Buon anno scolastico.